Buongiorno a tutti, oggi preparo le uova con peperoni, pomodoro e cipolla, olio e sale. Ho fatto 300 grammi di peperoni a dadini, 200 grammi di pomodoro a dadini e 100 grammi di cipolla a dadini. Ho usato peperoni rossi e verdi. Prendo una padella e metto peperoni, pomodoro e cipolla, tutti insieme. L'aggiusto di sale, sale quanto basta e lo stesso olio quanto e lo metto sul fuoco. Li lascio cuocere. Metto un bicchiere d'acqua, così si cuociono bene. Adesso che il sugo è pronto, metto le uova. Faccio le due peperoni. Mettere un po' di sale sulle uova. Ed eccoli pronti. A gustare, grazie della visione, alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.